Vincenzo Paolillo, campagna elettorale ormai alle porte, si dovrebbe votare entro metà settembre anche nella città di Pagani, stavolta anzitempo per un'amministrazione che è stata sciolta ancora una volta e lei ha deciso di scendere in campo direttamente quale candidato sindaco? Questa volta penso che sia arrivato il momento di sciogliere i dubbi da subito, sento su di me questa responsabilità e con grande serenità voglio dare diversamente un contributo a questa città. Perché cosa la spinge questa volta a fare una scelta diversa? Nel passato è sempre stato comunque una pedina importante all'interno del centro-destra sostenendo le candidature di Gambino, poi di Bottone e poi ancora di Gambino nell'ultima occasione. Ma diciamo che le ultime disgraziate annate hanno fatto sì che in questa città si creasse un odio sociale è un rigetto verso la politica e il politico. Anche i giovani che si sono avvicinati alla politica non hanno assistito a uno spettacolo degno della politica e la politica non è questa. La politica è concertazione, è dialogo, è trovare la soluzione nell'insieme, è condivisione. Allora se la politica viene fatta con questo spirito riusciremo a dare anche un segnale positivo ai giovani e alla cittadinanza. Perché io non devo avere vergogna di fare il politico o di dire io mi impegno per la politica. Non devo avere vergogna. Invece i fatti successi, ahimè, anche dovuto a questo clima così pesante di denunce, di illazioni, ha fatto sì che ha scaturito tutto questo e a pagarne è stata la città. Sotto gli occhi di tutti questa situazione imbarazzante, ma anche dei partiti in generale, sia a destra che a sinistra. Perché non c'è più quella degnità del politico in quanto si è scelti da un sistema, non da popolo, da un sistema. Ed ognuno quando cerca di fare qualcosa nell'interesse della città viene bloccato perché sta facendo qualcosa di buono, viene bloccato dal politico di turno che sul territorio, non è neanche il suo voto. Ora ha pensato un'esperienza del tutto civica con la sua lista a grande pagano? Sicuramente sì. Ho scelto anni fa di non stare all'interno dei partiti proprio perché è un sistema elettorale che non dà voce al popolo. Il consigliere comunale ha la fortuna di essere eletto dal popolo, però poi quando va a confrontarsi più in alto con altre istituzioni trovi dei politici che non sanno nemmeno le problematiche del territorio. è mortificante essere nominati, è mortificante perché poi ognuno in cuor suo sa di non avere il consenso, però insiste nel dire, giudicare e fare, ma in base a che cosa? Allora oggi io mi faccio una battaglia di dignità, una battaglia per cercare di restituire un po' di tranquillità sociale in questa città, ma anche per creare un clima di partecipazione. Faccio un esempio, dovessi essere eletto sindaco, tre assessori li farei scegliere dalle categorie, mi riferisco all'assessore all'urbanistica, a me lo devono scegliere, mi deve arrivare sul tavolo il nome da parte dei geometri, ingegneri, architetti, geologhi, mi deve arrivare questo nome. Stessa cosa per il commercio, i commercianti mi devono portare sul tavolo in nome di chi farà l'assessore, e stessa cosa per edilizia scolastica e istruzione. Perché passa attraverso la partecipazione di queste tre fondamentali attività lo sviluppo di una città e allargare a tutti un'idea di cambiamento sarebbe sicuramente cosa gradite li avvicinerebbe di nuovo la gente alla politica e ad appassionarsi per la propria città. Perché io in questa città ci vivo, ci lavoro, la mia famiglia è qua, i miei figli crescono qua e voglio starci bene. Non è giusto che dobbiamo subire queste, diciamo, disgrazie dovute a persone che fanno del proprio ego la politica in questa città. Ma c'è un margine di apertura di dialogo con gli altri candidati in campo, con, non so, anche con Gambino e il centrodestra da un rappresentato, oppure quest'altro fronte che si è aperto dove c'è Anna Rosa, stessa possibile candidata. Insomma, con gli ex alleati c'è un dialogo aperto oppure ormai è un discorso completamente chiuso per lei? Il dialogo è aperto con chi condivide quello che ho detto poco fa, con chi condivide che le strutture sportive devono essere di tutti e non a pagamento perché le associazioni sul territorio svolgono un ruolo importante. io in passato ho fatto associazionismo. Sapete bene i risultati che ho ottenuto e sapete bene che cosa abbiamo creato in questa città per 13 anni attraverso uno sport che era il calcio a 5. Le associazioni, e mi riferisco anche ad altri sport, devono svolgere un ruolo fondamentale in questa città perché attraverso l'aggregazione che, perdonatemi, non mi veniva il termine, l'aggregazione che si trasmette il senso di appartenenza alla città e la civiltà. Questo lo dobbiamo dire con forza, le strutture saranno aperte al pubblico, libere a tutti perché non è possibile che oggi un ragazzo per giocare a calcio o per giocare a palla a volo o a palla a mano deve pagare una retta mensile. Quando poi, lo dice in nome stesso, una struttura pubblica, che senso ha avere una struttura pubblica data in mano ai privati e aggiungendo ancora costi per chi vuole usufruire delle strutture sportive? Ma c'è un veto su queste persone che ho nominato prima, sugli altri candidati in campo? Paolillo vuole andare da solo? Basta? Cioè, è aperto comunque ad un dialogo, alla voglia di creare una coalizione, di creare insieme? Si parla tanto di queste coalizioni di buon governo? Ma, per Formamentis dovrei dirle di sì perché io credo sempre che le persone possono cambiare. Si fa il progetto, io valuto il progetto, però bisogna valutare anche le persone perché se io so è la colpa mia di essere, come diciamo noi, dalle nostre parti, storto, come diciamo dalle nostre parti, allora sono io quello là cattivo, non sono gli altri, allora se ci sono altre persone cattive che la pensano allo stesso modo mio, ben vengono i ragionamenti, però, ahimè, vedere tutti i giorni che anche la Lega, la notizia di stamattina sulla Lega, ieri io leggevo l'intervista, vedevo l'intervista del consigliere Sessa che diceva che era aperto ad un dialogo con il centrodestra unito, per un centrodestra unito, poi stamattina mi vedo il fratello dell'onorevole Vuolo smentirlo. Allora, lei vede che è difficile parlare con i partiti, perché i partiti, e non mi riferisco soltanto all'amico Massimiliano Vuolo, i partiti sono gestiti da famiglie, guardate a Paganite come sono gestiti questi partiti, prendiamo la nostra situazione di Paganite, sono persone nominate e che tendono a mantenere questo potere, il pallone è mio e ci gioco io, non è così, la politica è condivisione, io non posso parlare con chi prende ordine non sapendo neanche le problematiche che noi abbiamo sul territorio. A proposito di Pietro Sessa, che avete condiviso un lungo cammino insieme, c'è la possibilità di riformare questa coppia? Ma io penso che assolutamente no, Pietro Sessa ha ben capito, anche perché io gli spiegai quando lui entrò nel partito, venne da me, mi chiese se stava facendo la scelta giusta. Ovviamente ad un giovane che deve fare esperienza, gli puoi dare un consiglio, però devi sempre pregare affinché la sua idea si sposa appieno poi con il percorso che farà all'interno di questo partito. Lui oggi sta facendo un percorso all'interno del partito, sa che all'interno dello stesso ci sono delle correnti come ci sono in tanti altri partiti. Io spero ed auguro solo che non perda di vista il bene della città perché bisogna sempre, almeno quello che io ho insegnato ai miei, bisogna sempre anteporre il bene comune, il bene della città rispetto alle ambizioni personali. Io nel corso degli anni per ambizioni personali e per anteporre il bene di questa città ho fatto parecchi passi indietro. La sua candidatura oramai è in campo ma c'è qualcosa che potrebbe spingerla ad un passo indietro? Ma magari un passo avanti alla prima linea questo sì anche con cinque candidati Vincenzo Paolillo si farà una battaglia di contenuti e di idee ma perché lo devo innanzitutto ai miei figli basta con questo la politica del sistemare le cose che immagino guardate Vasca Vignataro Lena Vignataro come la vogliamo chiamare mercato settimanale anche io all'epoca ho fatto l'assessore volevo sistemare non si può sistemare perché è della regione e no e là bisogna sistemare bisogna fare i bagni bisogna creare le condizioni igienico-sanitarie per le merce e i settori e i merceologici che vendono all'interno e mi riferisco ai pesci vendoli mi riferisco a quelli che vendono generi alimentari non è possibile che il venerdì sera si lascia un odore sgradevole ma siamo nel 2020 dobbiamo cambiare come il mercato ortofrutticolo io reputo che il mercato ortofrutticolo sia una ricchezza una ricchezza per questa città che può finanziare le scuole di questa città perché il mercato ortofrutticolo produce un reddito di 500 mila euro l'anno e i fatti ad oggi mi danno ragione per cui di cosa stiamo parlando io con chi dovrei parlare con chi ha a cuore la poltrona o con chi ha a cuore le sorti di questa città io qua ci vivo ci vivo e ci lavoro quindi sono esposto quotidianamente al confronto con i miei cittadini per cui la mia è una battaglia di idee una battaglia di idee che magari posso riscontrare anche in tanti amici che ho nel centro-destra e nel centro-sinistra ma ahimè io con i partiti e con quelli che li rappresentano ho poca fiducia di idee Grazie per la visione!